La sede operativa del GAL tirrenico Mare, Monti e Borghi di Barcellona sarà nei locali del primo piano dell'ex consorzio Mari e Monti di Contrada San Filippo di Furnari. Ieri mattina è stato firmato il relativo accordo a Palazzo Marziani, sede del comune di Furnari, dal direttore generale del GAL, architetto Roberto Sauerborn e dal sindaco Maurizio Crimi alla presenza dell'ingegnere Renato Cilona. Presso la sede di Contrada San Filippo sarà istituito l'ufficio del GAL secondo gli orari disposti dall'assessorato regionale all'agricoltura. Qui ci sarà l'ufficio tecnico che fornirà anche tutte le informazioni sul piano di sviluppo rurale 2014-2020. Il GAL tirrenico che ha la sede legale a Palazzo Longano comprende 13 comuni, Barcellona, Basico, Castro Reale, Falcone, Fondachelli-Fantina, Furnari, Mazzara-Sant'Andrea, Merino, Vara di Sicilia, Rodimilici, Terme Vigliatore e Tripi e anche Oliveri. Rappresenta un'area di elevatissimo valore che può contribuire a favorire nuove opportunità occupazionali ed imprenditoriali nei settori legati allo sviluppo rurale e collegati, turismo e beni culturali. In prospettiva dell'apertura della nuova sede operativa il GAL tirrenico vuole dotare la propria struttura di collaboratori, una long list per l'assistenza nelle varie fasi di programmazione del piano di azione locale e dei fondi strutturali di investimento europei. Gli obiettivi sono gestione e valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio culturale, la qualità della vita e la diversificazione, la cooperazione interterritoriale e trasnazionale, l'acquisizione di competenze per la progettazione e animazione territoriale, la creazione di reti locali e la promozione marketing turistico e culturale. La formazione della long list sarà curata dal direttore generale del GAL, l'architetto Sauerborn e dall'ufficio di piano l'elenco manterrà la sua validità fino al 31 dicembre 2022. Obiettivo del GAL è partecipare alla strategia del programma di sviluppo rurale della Sicilia 2014-2020 anche in coerenza con gli orientamenti comunitari.